Ciao Sabrina! Ciao Fabio! Fabio, ben tornata al Robinson Club a Puglia. Grazie. Stavolta la tua camera è la Catania 21. Ogni volta una diversa. Grazie! Ciao! Buon lavoro! Benvenuti nella mia stanza al Robinson Club a Puglia. È tutto estremamente confortevole e spazioso qui. Il letto con questo materasso morbidissimo, poi ci sono gli arredi ergonomici, spaziosi, funzionali e i colori rimandano al mondo della natura in cui è incastonato questo villaggio fra i più premiati al mondo. Il colore del legno naturale, poi il colore verde, del puff, della poltrona e della tenda che ci porta verso il terrazzino all'aperto. È sicuro, Robinson cuore amore! Benvenuti nei vialetti del Robinson Club a Puglia Marina di Uggento. Qui si affacciano le camere che sono completamente immerse nella macchia mediterranea, avvolte dai profumi floreali e circondate dagli alberi secolari. E qui siamo a pochissimi passi dall'immensa piscina centrale. Dal par centrale del Robinson Club a Puglia Buon vento! Il viaggio alla scoperta del Salento si arricchisce col soggiorno in un luogo considerato il simbolo della ricettività turistica internazionale in Puglia. È il Robinson Club a Puglia, a Marina di Uggento, in località Torre San Giovanni, a soli 5 km dalla città di Uggento. Di gestione tedesca, da oltre 30 anni, questo villaggio resort Robinson è simbolo di mare cristallino, natura incontaminata e servizi d'eccellenza. In linea con la filosofia dei 24 villaggi Robinson nel mondo, dove le coppie, le famiglie e gli sportivi trovano il luogo ideale per vivere una vacanza da sogno, con la formula all-inclusive made by Robinson. Questo cocktail si chiama Tramonto Salentino. Una vacanza al Robinson Club a Puglia è piena di attività vincenti, da vivere nel mondo del villaggio. Nove campi da tennis in sabbia silicea, campi di calcio e calcetto, tiro con l'arco con campi di tiro fino a 30 metri, spinning nel bosco fra gli aromi e i profumi di una natura rigogliosa e incontaminata, biking fra i vialetti nel verde e con itinerari guidati alla scoperta dei sentieri mediterranei. E' un'attrezzatissima palestra per essere al massimo della forma fisica durante le vacanze. Il desiderio di relax al Robinson Club a Puglia trova il suo regno di benessere nella Spa Well Fit di 1200 metri quadri, con l'esclusiva piscina rotonda in giardino e un menu di programmi wellness e massaggi per abbandonare mente e corpo alla quiete di un sogno mediterraneo. Per farsi catturare dalla straordinaria bellezza del Salento, il Robinson Club a Puglia offre una serie di itinerari e di escursioni per scoprire le meraviglie costiere e il patrimonio storico, culturale e artistico dell'entroterra salentino, con le sue specialità enogastronomiche che ogni giorno trionfano nei ristoranti del Robinson Club a Puglia, tra i sapori pugliesi, italiani e internazionali. Il grande chef Stefan guida la squadra di cucina del Robinson Club a Puglia e oggi per pranzo rigatoni con pomodorini e melanzane alla pugliese. Cinque, sei, sette, buon vento! Salse di rostrino. Una delle cose più magiche del Robinson Club a Puglia sono i tramonti e uno degli scenari più suggestivi dove poterli ammirare è la trattoria sul mare ed ecco una parte del cuore di questo luogo magico del Robinson, i ragazzi della trattoria sul mare del Robinson Club a Puglia. Ciao! Dal Robinson Club a Puglia, buon vento! Al Robinson Club a Puglia si scivola in un mondo di puro divertimento, nell'incredibile parco acquatico regno dei piccoli e anche dei grandi, dove i bambini sono accuditi con cure e premure dai professionisti del Roby Baby e del Roby Club, con la leggendaria mascotte Roby, sempre presente all'imperdibile appuntamento con la sigla del villaggio, che trasmette la grande emozione Robinson. Take me back to Robinson, take me back to good days, that never can be replaced, like peace of my heart, take me back to singing songs, to get away from home, can you beat up until the day we'll meet again? L'atmosfera del Robinson Club a Puglia è permeata di calore, brio e magia. Sparsi ovunque dall'estro salentino del direttore Mario Mauro, più volte insegnito di attestazioni e riconoscimenti che lo premiano fra i migliori direttori di villaggio del mondo, per un talento che spazia nella gestione del villaggio resort e che spesso lo rende protagonista ai fornelli, negli imperdibili spettacoli gastronomici serali e notturni, quando si diletta nella preparazione delle sue specialità culinarie tipiche e col tocco creativo da chef. Perché Robinson non è una semplice vacanza, ma uno stile di vita. Per chi preferisce una vacanza attiva qui nel nostro Vaspo Club è per vivere uno stile di vita costiero mediterraneo. Stiamo attraversando la reception, movimentatissima a quest'ora della sera, le bravissime receptionist di questo villaggio premiatissimo nel mondo. E io lo sbocco verso la luce e andiamo a vivere un'altra serata salentino. Dalla base nautica del Robinson Club a Puglia, buon vento! Vai, 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 vai! E io lo sbocco verso la luce e andiamo a vivere un'altra serata salentino. Grazie a tutti.